L'arte terapia come mezzo per conoscere il mondo da parte dei più piccoli, ma anche come metodo didattico utilizzato da Anna Maria Taroni è documentato nel libro La filanda delle emozioni, racconti, laboratori e percorsi per crescere con l'arte. Il volume raccoglie 10 anni di un'esperienza che ha coinvolto 10.000 bambini in originali esperienze alla scoperta delle proprie emozioni, delle proprie capacità artistiche. I laboratori si sono svolti all'interno delle scuole di Faenza ma anche all'interno del centro commerciale La filanda. Anna Maria Taroni, arte terapeuta, da dove nasce questo libro La filanda delle emozioni? La filanda delle emozioni è un libro che raccoglie una serie di percorsi laboratoriali che si sono sviluppati all'interno delle scuole del territorio faentino. Il libro nasce proprio con l'idea di portare al di fuori delle scuole tutto il lavoro silenzioso che si fa quotidianamente. Quindi come primo libro è stata scelta la tematica delle emozioni, l'incontro delle emozioni e il bambino. Attraverso tecniche di arte e terapia il bambino ha la possibilità di esprimersi, ha una possibilità di raccontare la propria storia attraverso il mezzo simbolico dell'arte. Nel libro viene raccontato l'incontro con le emozioni attraverso tre capitoli. Il primo capitolo sono le emozioni e il colore, il secondo l'incontro con l'artista e il terzo invece l'incontro con la materia. C'è una particolare didattica che tu utilizzi in questi incontri con i bambini? Il filone di base è quello dell'utilizzo di tecniche di arte e terapia, appunto perché l'arte e terapia dà possibilità a tutti di potersi esprimere. Vengono utilizzate anche delle tecniche facilitanti perché tutti ce la possano fare. L'argomento che viene scelto e condiviso fin dall'inizio con gli insegnanti viene poi sviluppato all'interno delle scuole con degli strumenti facilitatori. Generalmente si inizia da un albillustrato, dall'albillustrato si inizia il racconto, i bambini entrano in contatto con le proprie emozioni, sensazioni, vissuti e danno poi a queste una forma attraverso la materia, il colore per poi verbalizzarla. Questo volume raccoglie quindi tutte queste esperienze vissute? Ma queste esperienze con il rapporto diretto con Conad la Filanda e successivamente Shopping Center la Filanda nasce dal 2009 e quindi era difficile raccoglierle tutte. È stata fatta una selezione, è stata fatta una selezione dei percorsi delle emozioni. Un percorso didattico in un luogo non convenzionale quando si viene in un centro commerciale, diciamo. Perché? Conad la Filanda ha sempre creduto in questa possibilità di portare la cultura a tutti e di renderla accessibile e quindi ci sono stati tanti filoni di portare i laboratori. Il primo è stato quello dell'intervento diretto nelle scuole ma poi anche che le scuole dentro al centro commerciale quindi sono stati creati degli appositi spazi dove si svolgono i laboratori sia con le scuole sia in libera utenza con le famiglie perché la cosa importante è proprio il contatto e l'incontrare anche le famiglie e dare a loro una possibilità di uno spazio dove possano giocare, stare con i loro figli, narrare, raccontarsi e fare insieme. Questo libro è anche la testimonianza che dentro un centro commerciale può avvenire di tutto anche della didattica, degli incontri con i bambini e tante emozioni. Effettivamente è così. Io sinceramente non sono il promotore di questa collaborazione con Anna Maria che ormai considero come un'amica perché io sono arrivato solo tre anni fa mentre lei già lavora qui, è una star lei ormai lavora qui da dieci anni. Partecipando comunque a questi laboratori che da tanto tempo organizza sia nelle scuole che all'interno del centro commerciale sia in prima persona che con i miei bambini mi sono reso conto che comunque il lavoro di Anna Maria era altamente superiore da quello che si trova nei classici laboratori quindi sono stato ben contento di continuare la sua attività all'interno del centro commerciale. Poi diciamo che sono anche una delle figure che l'ha un po' spinta verso la scrittura del libro e quindi sono molto contento che ci siamo arrivati, di esserci arrivati e quindi di essere qui oggi a presentare il suo libro. La presentazione di questo libro avrà un seguito? Come verrà distribuito? Quali sono gli obiettivi? Allora, 200 coppie il centro commerciale le regalerà agli istituti scolastici di Faenza perché comunque questo non è un classico libro ma è proprio un libro che viene utilizzato dagli insegnanti e dai genitori per applicare arte e terapia ai bambini e quindi è proprio un libro di testo diciamo quindi regaleremo 200 coppie ai bambini. Un altro migliaio di coppie è già in vendita per eventuali genitori interessati all'interno del supermercato da questa mattina e quindi questa è la prima diffusione. Poi io ho sempre spinto Anna Maria a che questo fosse uno start up quindi il primo di una serie perché può essere comunque un libro cappello aperto a tutte le altre esperienze che ha fatto, ha affrontato tre temi ma in questi dieci anni di lavoro con noi ne ha affrontati a centinaia e quindi ha la possibilità, se questo libro avrà il successo che io spero, possa avere, spero che possa arrivare a farne altre coppie, altri testi quindi nuove edizioni con nuove esperienze da offrire agli insegnanti che oggi come oggi fanno veramente fatica ad avere un supporto da utilizzare scolasticamente soprattutto per questi nuovi prodotti, l'arte e terapia e cose di questo tipo. Quindi continuerà nel tempo la collaborazione e soprattutto queste didattiche, questi corsi per i bambini? Direi di sì, Anna Maria si è addirittura già fatta firmare il preventivo per quest'altro anno quindi almeno quest'altro anno ci sarà, finché sarò io qua sicuramente continuerà. Perché avete deciso di appoggiare questa iniziativa? Questa iniziativa nasce nel 2009 quando Anna Maria Tarone, l'autrice, mi presentò al primo progetto di collaborazione a questa serie di eventi che poi hanno portato al risultato finale in questo libro se forse anche improprio chiamarlo libro, ma più un documento, una descrizione delle emozioni e nasce nel 2009 quando mi presentò a questo progetto e noi che di solito come soci Conan siamo abituati a operare nel territorio a livello sociale sia sostenendo tutte quelle che sono le attività che riguardano il territorio dove operiamo diciamo dal bambino all'anziano e rimasi colpito da questo progetto perché andava a toccare ambiti nuovi per me e che nessuno mi aveva mai proposto e di lì è nata questa collaborazione che alla fine ha prodotto questo bel libro. Perché è importante portare all'interno di un centro commerciale delle attività che sono tra virgolette estranea a quella che è la finalità del centro commerciale stesso? Diciamo che è un po' nel DNA di Conan, operare nel territorio la nostra slogan è che se operiamo in un territorio ricco è più facile ottenere risultati e quindi essendo noi soci, gestori dei nostri punti vendita prima di tutto cittadini, abitanti di questa città ci teniamo che il nostro territorio sia ricco di questi eventi e di queste opportunità che spesso ci vengono proposte noi riteniamo che operare nel sociale è un nostro dovere noi dal territorio preleviamo e nel territorio ci piace rilasciare e ci piace rilasciare in queste forme che possono essere la cultura, lo sport e l'associazionismo Grazie a tutti